Mezzi pubblici ed essenziali potranno circolare anche gli Euro 3 e 4. Esodati super bonus arriva l'aiuto della regione. Carcere, quale il ruolo delle regioni? Nuova edizione di Consiglio News, ben trovati. In apertura ci occupiamo di trasporti. Approvata la legge che scongiure il rischio di blocco per i mezzi pubblici e per quelli essenziali Euro 3 ed Euro 4. Nessuno stop per i veicoli Euro 3 ed Euro 4 che svolgono servizi essenziali per la collettività, compresi i mezzi di trasporto pubblico locale, anche se non sono dotati di filtro antiparticolato, purché abbiano installato il dispositivo Move-in. E' quanto prevede la legge approvata dall'Aula che scongiura il rischio di fermare molti mezzi pubblici in Piemonte. Relatore di maggioranza Matteo Gagliasso Lega Si premeva non andare a bloccare dei mezzi che possono ancora circolare per dare appunto un servizio che è fondamentale, perché se oggi noi pensiamo che i ragazzi dall'oggi a domani non potrebbero più andare a scuola per il blocco del trasporto, verrebbe meno anche l'input che la regione deve dare ai territori. Altro relatore di maggioranza Paolo Ruzzola, Forza Italia Noi siamo intervenuti oggi per far sì che in via temporanea e nel frattempo che arrivano i nuovi mezzi, questi mezzi possono continuare a circolare e non far venire meno il servizio pubblico ai nostri cittadini. Relatore di opposizione Sean Sacco, Movimento 5 Stelle Ci sembra una toppa che non risolve nessun tipo di problema, avremmo preferito avere una norma che definisse un periodo transitorio in cui questi mezzi poi sarebbero dovuti essere sostituiti. Numerosi gli interventi di maggioranza e opposizione nel corso del dibattito generale. La salute prima di tutto ci mancherebbe perché poi il tema è anche il PM10 e anche l'inquinamento ma non può essere il fruttore del bus che oltretutto il bus per sua natura portando fino a 50 persone fa risparmiare un sacco di automobili nelle nostre strade, non può essere il fruttore del bus a pagare questo quando c'è una questione tecnica del filtro antiparticolato. La Giunta non ha saputo programmare gli acquisti e gli interventi necessari di nuovi mezzi che potessero sostituire quelli vecchi e quindi si chiede ai cittadini di sostituire le loro auto e in compenso non lo si fa con i propri mezzi e noi pensiamo che sia sbagliato. Non è vero che non è stato fatto niente in questi anni, non è vero che non c'è stato un piano di sostituzione di mezzi, naturalmente bisogna comprarli, bisogna costruirli in un periodo in cui c'è stato qualcos'altro nel mondo che Covid e difficoltà di reperimento di materiali che hanno rallentato i piani che avevamo messo in atto. Esodati del Superbonus in arrivo un aiuto da parte della Regione. Un aiuto ai cosiddetti esodati del Superbonus 110% ma anche agevolazioni edili per chi ha dei crediti non assorbiti dal mercato e ancora cedibili. E quanto prevede la proposta di legge? Interventi in favore della cessione dei crediti di cui è l'articolo 121 del decreto legge 77 del 2020 approvata all'unanimità dall'Assemblea Legislativa. La proposta di legge è a prima firma Stefano Allasia Lega. Parliamo di più di 35.000 persone, perciò una popolazione molto molto importante che rischierebbe dal 30 novembre di rimanere a casa e senza lavoro con grandi difficoltà economiche. Perciò come Piemonte abbiamo dovuto e voluto dare una risposta immediata con provimento ad hoc. I crediti acquistati dovranno derivare da interventi su edifici ubicati nel territorio della Regione, da fornitori con sede legale e o operativa in Regione, oppure da interventi effettuati da beneficiari su edifici, unità e immobiliari sempre nel territorio regionale. La legge non prevede sborsi dalle casse regionali. Bisogna dire che il problema è reale per molti cittadini e per moltissime imprese. La legge non deve essere una bandierina ma uno strumento reale di risoluzione dei problemi. Aspettiamo nelle prossime ore per capire quello che succede. Riteniamo che anche se in modo tardivo e per rimediare ad errori di altri, questo Consiglio regionale oggi si possa dotare di una legge che ha l'obiettivo di aiutare diversi cittadini piemontesi e diverse aziende piemontesi. Al termine è stata votata la dichiarazione d'urgenza della legge. Un milione di euro, questa è la cifra stanziata per sensibilizzare contro il gioco d'azzardo patologico. A quanto ammonta il finanziamento della campagna promossa dalla Regione Piemonte, perdere tutto non è un bel gioco, alla luce anche dei maggiori fondi statali trasferiti alla Regione, dopo l'abrogazione della legge regionale del 2016 sulle norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico? Questo è il tema dell'interrogazione che il consigliere del Movimento 5 Stelle, Shun Sacco, ha rivolto all'assessore alla sanità Luigi Icardi nell'ambito dei question time. Le risorse impegnate a tutt'oggi per le innumerevoli azioni inerenti al piano di comunicazione istituzionale ammontano euro 1.080.000, ha ricordato in aula l'assessore alla sanità Luigi Icardi. Si tratta di somme previste dal piano regionale per il contrasto, la prevenzione, la cura e la riabilitazione del gap, un provvedimento quadro che costituisce la cornice delle innumerevoli azioni di comunicazione istituzionale finalizzate a realizzare spot su giornali, radio e tv, attività come il cosiddetto gap tour e molto altro ancora. Il consigliere Sacco ha replicato che si tratta di una scelta ipocrita perché a suo avviso da un lato hanno deciso di liberalizzare il gioco d'azzardo, dall'altro hanno lanciato una campagna di sensibilizzazione. Si è celebrato il 2 ottobre il quadrilatero piemontese composto dalle quattro squadre che nei primi anni del Novecento furono protagonisti assolute del mondo del calcio, Alessandria, Casale, Novara e Provercelli. La ricorrenza è stata ricordata in aula dal Presidente del Consiglio Stefano Allasia. La legge regionale 16 del 2021 istituisce la giornata integrando la norma del 2020 che prevede il ricordo del Grande Torino il 4 maggio e delle vittime dello Stagio Isè il 29 maggio. Per l'occasione in collaborazione con le associazioni Il Quadrilatero del Pallone e Museo Grigio sono stati esposti a Palazzo Lascaris, Galiardetti, Storici e Maglie. Il ruolo delle regioni in tema di esecuzione penale in carcere è al centro di un convegno che si è tenuto al Circolo dei Lettori di Torino. Richiamare l'attenzione dei rappresentanti delle istituzioni sui compiti loro affidati in materia di gestione dell'esecuzione penale. Questo l'obiettivo dell'incontro Carcere, il ruolo delle regioni che si è svolto al Circolo dei Lettori di Torino promosso dal garante regionale delle persone detenute Bruno Mellano in collaborazione con la Conferenza Nazionale dei Garanti Territoriali in concomitanza con il Festival delle regioni. Dal 1975 l'ordinamento penitenziario ha messo in capo alle regioni e agli enti locali gran parte delle responsabilità sull'esecuzione penale, sul trattamento, dalla formazione al lavoro, dalle politiche sociali all'istruzione, dalla formazione alle politiche culturali e sportive. Se lasciamo da soli gli operatori dell'amministrazione penitenziaria rischiamo di raccogliere una recidiva altissima. Il portavoce della Conferenza Nazionale, Stefano Anastasia, ha denunciato che la situazione carceraria è difficile a causa del sovraffollamento. Dopo la parentesi del Covid, della pandemia, il sovraffollamento è ricominciato a crescere con grandi difficoltà e molti istituti in gran parte del paese. Già lo scorso anno abbiamo avuto un tristissimo regolo che è stato quello del numero dei suicidi, che l'anno scorso sono stati 85 e quest'anno sono già più di 50. Gravissime carenze, soprattutto sull'area sanitaria, che è esattamente quella di competenza delle regioni e dove il lavoro e la collaborazione delle regioni può essere determinante, non importante, proprio decisivo. In occasione della giornata regionale della pace, il Teatro Vittoria ha ospitato un concerto dedicato alle famiglie che vivono in territori di guerra. Il Teatro Vittoria di Torino ha ospitato i Kinder Toten Leader di Gustav Mahler, concerto dedicato alle famiglie che soffrono perché costrette a vivere la guerra. Un'iniziativa voluta e organizzata dal Comitato regionale per i diritti umani e civili, in occasione della giornata regionale della pace, che si celebra il 2 ottobre di ogni anno. Un concerto a favore della pace del mondo perché ci sia maggiore sensibilizzazione su tale argomento, perciò c'è una doppia valenza questa serata. Da un lato onorare la giornata della pace, dall'altra parte il rispetto dei popoli, ci deve essere da ambole parti. La ricorrenza è stata introdotta nel 2021 da una legge proposta dal Presidente all'Asia, che si pone anche l'obiettivo di ampliare e consolidare l'impegno del Comitato nella promozione e nella tutela dei diritti umani e civili, in particolare in questo periodo storico in cui è sempre più sentita la necessità di far conoscere, rendere effettivi e garantire con maggior forza i diritti civili riconosciuti dalla Costituzione a tutte le persone. Quale giornata migliore per parlare attraverso l'arte, che tante volte è una forma veramente eccelsa per parlare di tante tematiche, anche quella della difesa dei diritti umani e civili nel mondo, quindi quale serata migliore, se non quella del 2 ottobre, per toccare un tema veramente molto attuale e soprattutto molto toccante, che è quello della guerra in Ucraina. Per questa edizione è tutto, prima di salutarvi vi ricordo che sul sito cr.piemonte.it trovate notizie e aggiornamenti sull'attività del Consiglio regionale del Piemonte. Arrivederci! Grazie!